Io lavoro al bar, di un albergo a ore, porti su un caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasta come una cretina, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, distinti, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, Gli ho dato le chiavi di quel paradiso e ho chiuso la stanza sul loro sorriso. Io lavoro al bar, di un albergo a ore, La 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 la, porto su un caffè a chi fa l'amore. La 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 la, vanno su e giù coppie sempre uguali, La 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 la, non li vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasta come una cretina, aprendo la porta in quel grigio mattino. Se ne erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a vent'anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoni e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli. Né fiori né gente, soltanto un furgone, ma là dove stanno, staranno benone. Io la volo al bar di un albergo a ore, lai 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 lai. Porto sul caffè a chi fa l'amor, lai 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 lai. Io sarò cretina, ma chissà perché, lai 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 lai, non mi va di dare nessuno la chiave del treno. Lai 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 la Grazie.